Il sindaco Giovanni Palomba si è appena concluso il ponte Pasquale. Possiamo tracciare un bilancio positivo? C'è una ripresa dei flussi turistici nei nostri territori? Io penso che tutti hanno notato la presenza di turisti a Torre del Greco. Può essere anche un turismo mordi e fuggi, ma comunque vuol dire che le strutture ricettive della nostra città fanno un buon lavoro. E quando dico ricettive io mi allargo a tutta quella che è la ristorazione, che praticamente ha avuto il pieno in questi giorni di Pasqua e Pasquetta. Quindi continuo questo trend positivo per quanto riguarda coloro che investono nella nostra città. Io ringrazio tutti coloro che investono. Adesso parte anche la stagione balneare perché l'amministrazione comunale ha voluto fortemente l'anticipo dell'apertura dei liti. Sono tutte cose che praticamente tutti i piccoli segmenti che uniti possono fare una buona linea dritta affinché un turismo possa praticamente toccare anche la nostra città, la città di Torre del Greco. Ecco proprio questo, per far sì che questo turismo mordi e fuggi, come lei diceva prima, possa decollare, che cosa si può fare? Il rapporto con tutti gli operatori e quello che, quando ho detto prima, l'anticipo dell'apertura dei liti. Beh, questo è un qualcosa che praticamente è stato apprezzato. Anche perché noi, ecco, nella fascia costiera siamo quelli che abbiamo più liti e quindi praticamente c'è anche un bel movimento. Ecco, tra l'itoranea e la zona della scala, diciamo così, c'è un buon movimento e questo è stato un bene. Poi, tutto quello che riguarda la ristorazione, le strutture ricettive, beh, bisogna coordinarci. Ecco, non pensare che l'amministrazione sia l'unica responsabile in tutto, ma un po' con tutti ci devono mettere, ecco, ognuno deve mettere il suo in una sola entità, essere quando più positivi è possibile. E parlare quando meglio è possibile nella nostra città, anche perché, voglio dire, lo stiamo vedendo, Torre è un punto di riferimento, sia per tutto quello che è la provincia di Napoli e non solo, ma anche perché viene accettata da quello che è un turismo, ripeto, anche se è un mordi e fuggi, ma comunque vengono apprezzate le nostre strutture ricettive. Poi, per quanto riguarda far rimanere qua un turista, beh, qua bisogna valorizzare quelle che sono le realtà esistenti sul nostro territorio, gli ipogei, i panorami della nostra città. Ripeto sempre, molti turisti del nord Europa segnano il centro del Golfo di Napoli e il centro del Golfo di Napoli e Torre del Greco, in particolar modo ecco la zona proprio del porto, dove c'è la visuale più bella del nostro Vesuvio. E poi ci sono tante altre cose che a Sime possiamo praticamente migliorare. Guardando i prossimi punti alla stagione estiva, l'amministrazione comunale pensa a delle attività, a delle iniziative, a un calendario di eventi da mettere a punto? Sì, già è partito, ecco da maggio c'è già un primo calendario di eventi. Io penso massimo per il 3 maggio approveremo il bilancio del Comune di Torre del Greco, dopodiché ci saranno quelli che sono l'avanzo di amministrazione e in questo che è l'avanzo di amministrazione io penso che si possa immaginare immaginare anche un recupero delle tradizioni della festa dei quattro altari, lo dico già adesso, quelli che sono i tappeti, l'altare, il recupero della tradizione, attenzione, ecco, e poi quelli che erano, ecco, le infiorate. Poi pensare a un qualcosa per gli anni prossimi. Dopodiché faremo quello che è il cartellone del periodo estivo che è stato apprezzato l'anno scorso e lo rifaremo e poi vediamo per il Natale di essere come siamo sempre stati pronti per tutta una serie di iniziative nella nostra città.